buon salve ragazzi buon salve bentornati sul canale siamo di nuovo a giocare jessky ma questa volta con dei granchioni jessky crab con come ospite che di nuovo non riesco a farvi vedere perché vari motivi vari ed eventuali tipo che gira sempre nudo in casa herman consiglio che salutiamo non solo in casa non dire bugie c'hai anche ragione tu c'è anche io ho presupposto sbagliando sbagliando cosa andiamo a giocare oggi andiamo a giocare il nostro jessky sostanzialmente la base del nostro jessky che funziona è forte figa e divertente nel meta è incredibile perché quattro parentise in un meta popolato da fattine comunque risulta essere determinante ma ci andiamo ad inserire il granchietto e qua lasciate la parola ragazzi il granchio ne sa ne sa se si fa vedere secondo me può essere una carta sempre più interessante perché è estremamente versatile e poi se riusciamo a rianimarlo è tosto da buttare giù perché quel world tree non è non è non è una cosa da poco in un formato dove quella devi cercare di utilizzare sempre in mana c'hai alta efficienza per cui fare una remover più tre mana open nella cosa più facile del mondo e buttare a terra un 5 7 è difficile decisamente una scelta che già funziona di suo ne sa secondo me può essere interessante un'idea che vale la pena provare non andiamo ad appesantire troppo il mazzo perché poi rischiamo che appunto si inchiodi per già è un mazzo io chiamo il re dei chiodi questo mazzo se ci aggiungiamo altri chiodi ancora più pesanti rischiamo di essere un attimino poco performanti e dopo dobbiamo far vedere comunque delle liste che possono funzionare quindi secondo me ci sta un sacco per il resto il mazzo è il classico jskai che sto giocando ultimamente quindi se volete una deck tech approfondita vi rimando a qualcuno di quei video che tanto ne trovate un sacco sul canale cercate jskai aizen su youtube trovate qualunque roba particolarità sulla side anche qui giochiamo una monotormod crypt giusto per non morire a caso da mazzi che abusano del cimitero esatto visto che di solito non ne giochiamo ma è una carta che comunque spesso torna utile anche contro il nuovo storm in realtà perché se riesce a gestirgli sui pezzi e poi non gli permetti di usare feldon che in more quindi una carta che può essere può essere utile resto è veramente sempre lo stesso mazzo cercheremo di dare un senso a questa carta poi può essere comunque una scelta è una scelta valida secondo me nel meta perché come dicevi prima con fire nice adesso c'è un una buona risposta anche ma il sarà grande maggioranza dei mazzi fatine che girano in questo momento e contraffiniti cia il bianco quindi tasto d'asta e quindi hai una buona possibilità di 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 risolvere questo tipo di match up che è sempre più frequente quindi diciamo che contro due terzi del del meta dovessi stare abbastanza bene con i mazzi random o comunque gli altri mazzi che girano comunque della puoi giocare perché è uno di quei mazzi che io adoro perché te la giochi un po con tutti può essere una scelta interessante non è facile da giocare perché come tutti i mazzi un po più interessanti ti pone davanti a diverse scelte spesso sono determinanti però a me piace parecchio quindi non vedo l'ora insomma di provarlo è un bel mazzo tra l'altro vorrei fare una una precisazione l'abilità del granchietto è utile anche a counterare storm cioè nel momento in cui viene castato dal mani che le stormo passa dalla pila dopodiché quando risolve quell'abilità mette genera n copie in base al numero di carte giocate quindi se riusciamo a counterare quell'abilità perché magari ci tirano galvani che lei senza avere tre mana dietro possiamo fermare anche questa cosa quindi è interessante anche sotto questo aspetto non so quante volte riusciremo a fare questa cosa anche perché comunque è un'abilità che si fa a tre se ci riusciamo vediamo 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 è interessante perché non ne realizza solo una copia ma tutta l'abilità proprio quindi può essere molto rilevante nell'altro terzo di diciamo di grandi mazzi giocati in questo periodo che c'è sì 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 o magari riusciremo prima o poi a counterare l'abilità che ne so contro un povero giocatore di affinity di una una blood fountain no queste cose che possono diventare interessanti fare impazzire la gente entriamo in lega e vediamo cosa succede allora 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 questo è un clising welfare di secondo e dire di sì e la teniamo oh ma quanto sono belli questi clising welfare da tirare di secondo io mi emoziono sempre eh beato te io non ci riesco mai non le vedo mai ste mani intanto l'oppo ma liga 4 vedi clising welfare di secondo l'oppo ma liga 4 abbiamo vinto io sono l'oppo di solito in queste situazioni qua vedi ogni volta che lo tiro ogni volta che lo tiro di secondo è sempre come la prima volta quindi ti emozioni va bene va bene va bene lo stai notando questo questo moon drifter effemerate di terzo on the play bello qua cosa prendiamo è anche blu perché tendenzialmente a prendere il blu però non sarebbe sbagliato forse prendere anche bianco in questo spot io tendo a prendere blu però ci sta anche bianco assolutamente ci sta ci sta siamo fortunati per questo per game blu ma l'ho fatto fatto mal di gara 4 si 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 qua o facciamo un drifter effemerate che secondo me ci sta o facciamo galvanica qua sopra per dain però è un po moscia come cosa diamo subito le cose in chiaro esatto stavo per tirarmi una galvanica sul pesce così non è bellissimo sì però sì 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 è vero anche questo sono gusti sono gusti sai che qua forse tolgo la soul sì 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 assolutamente ma tra l'altro cioè la stai immaginando questa cosa del tappo 4 sacco blood fountain per riprendere doppio pezzo crab che countera l'abilità bello no pensavo ancora fossimo rimasti al discorso della galvanica sul pesce quindi immaginare quello non era la miglior cosa da fare beh 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 era demonetizzano subito sto video trovo io sì poi potrebbe fare anche male va bene e infatti la galvanica sul pesce è stata fatta e ha fatto male va bene tanto ne cerchiamo tra gli effemates quindi ce l'accogliamo allora terra e fino a qui adesso questo non ci pioca quasi vado a spaccare questo spacchiamo di scepolo ecco fai preordain removal e teniamo open di counter quello dici eh non so se tirare direttamente a braid per stare open di tre eventualmente anche per il crab e poi fare cose dal prossimo oppure tirare per day in galvanica e se facessimo galvanica invece di a braid che magari ci può servire contro qualcos'altro ci sta ci sta sai che seagate forse non lo vogliamo perchè ne abbiamo già uno la terra è però la bandiera la terra si però va bene su discepolo? si almeno così contiamo i danni e non ce ne può fare un po' un po' a caso anche perchè tra poco dovrebbe finire il gas discepolo e ha preso un granchio e ha preso un granchio si no che l'unica cosa che stavo valutando era se non tirare granchio ma tirare counterspell perchè così poi non poteva riprendersi di blood fountain però in realtà blood fountain la possiamo spaccare via braid quindi 1,2,1,3 poi se lui fa il suo turno nel cioè il suo turno è misacco fontana per prendere due discepoli il turno successivo faccio due discepoli non è che si 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 quello è vero e c'è sempre da considerare che noi poi possiamo anche spaccargli quella te non so se lui giochi la in queste versioni se giocano la terra base oppure no mi sembra di sì dovrebbero giocarla dovrebbero giocarla quindi facciamo forse qua facciamo eh farei seagate stoppiamo un po' l'emorragia di punti di video e forse farei così perchè se pesco una una tupland faccio la tupland tanto non penso che cambi cambi più di tanto sempre da dire che noi giochiamo quattro faren dice quindi se fa quella giocata appoggia doppio discepolo e noi vediamo un faren dice si è perso più o meno due turni a non fare quella va bene questa mi piace passiamo molto bene molto bene qui niente c'ha questi stop in upkeep anche quando non può fare niente che sono interessanti sono molto interessanti tra l'altro non penso che possa giocare qualcosa di no può farmi in upkeep una galvanica perchè così non sa che cosa pesca e te la tira alla cieca ma più che quello non può fare mi piace il brivido esatto va bene va bene granchio fire and ice a posto terra facciamo facciamo cleaning wildfire ci prendiamo un'altra isoletta cosa ne pensi dell'arte di questa di queste nuove terre allora a me piace in generale tantissimo l'arte diciamo questa qua stile giapponese così proprio le isole sono quelle che magari mi hanno un po' deluso perché tipo la palude è quella che mi piace di più la palude che sembra una montagna che è la montagna anche la montagna si è bella le isole l'altra è un po' più bello il disegno però sembra una foresta quindi mi confondo questa qua mi sembra un po' troppo futuristica non fa impazzire sì sì ci può stare ci può stare ci può stare c'è da dire che poi è un'impressione perché poi sono spettacolare poi io in realtà l'unica cosa adoro i totteri e qua ci sono i totteri quindi no secondo me in real sono più belle che online però sai sì di solito di solito devo forse il contrario però questo in questo dato qui non lo so non lo so poi io in realtà adoro le terre di aninged mi piacciono troppo mi giocherei tipo solo quelle io quelle c'ho infatti cioè guarda che bello questo farendice guarda che bello questo farendice bene un altro guarda che da dove siete venuti voilà sì 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 e vabbè questo c'è uno questo c'è uno diciamo che è stato molto dettato dal suo mannigan sì il prossimo il g2 sarà molto dettato dai dust to dust poi non nemmeno visto nessun è un si chiama là effimerate questo guarda partiamo con un seagate intanto qua possiamo fare quello che vogliamo prendiamo che prendiamo? forse la terra sai prendiamo la terra intanto abbiamo un archiomante nel caso servisse sì 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 tanto noi più andiamo avanti di land più cose riusciamo a fare e qua in end andremo sicuramente a provare a fare effimerate coperto da counter spell facciamo vantaggio e poi ce lo riprendiamo di archiomante e dovremmo io direi che l'unica cosa che abbiamo a tenere un po' sott'occhio sono i dispute o simili diciamo se potrebbero farlo rientrare un po' per il resto quando sei pirata infatti ho avuto un attimino di ma che mi fa pirata concede la partita eh beh molto bene molto bene pensa al pirata pensa al pirata che cascava disputa che faceva cose disastro dust to dust non darete il giocatore di affiniti sennò è la fine dust to dust e poi voglio ammettere uno o due hyalurblast sì sì un paio sì forse i granchi non è il match up in cui brillano non splendono no infatti come anche la soul come anche in realtà forse anche i paradise non sono incredibilmente forti eh anche se sono versatili alla fine però non vedo altro da togliere certo sto late to dinner ha perso parecchia forse facciamo così più interessanti sì sì ci può stare ci può stare anche perché effettivamente teniamo una carta che nel caso in cui diventa inutile si cicla in alcuni spot comunque risulta essere utile e late to dinner è un chiodo incredibile se non dal mid in poi il problema è che noi dobbiamo arrivarci in mid e se arriviamo al mid vinciamo anche senza quindi va bene va bene va bene abbiamo le hydroblast per non morire a caso da Atog ah no scusa ah no 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 però c'è sempre la makeshift munitions c'è ci sono le pyroblast banalmente bananamente allora allora e che dire clinici di secondo strano clinici di secondo più dust to dust sembra essere una mano che dici la volevi mal ligare che effettivamente non ho chiesto e scortesi guarda tanto se avessi mal ligato pescavi le stesse terre ma con addirittura stappate le avessi trovato guarda prendo 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 la diures vediamo se concede questa pescata mi va a dire proprio ma noi stiamo fuori da tutto attenzione e beh per forza ci sono due e abbiamo pure il doppio bianco ma si va bene va bene prendo tutto vai questa che pensi di questa partita direi che è andata è andata vorrei un commento aspetta che mo scumbano che mi fa tappa 3 guarda uccidiamo questo perché almeno non mi può fare un altro oppressore tutto lì si va bene va bene va bene però io comunque ti avrei scartato un dust to dust probabilmente ma è 100% anch'io però di solito magari è un giocatore di modern tengono sempre la cosa del non si scarta mai la carta doppia assolutamente però devi fare il famoso buco però si 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 però voglio dire con una carta come dust to dust il buco te lo fa lei esatto ma è che salta l'endrop no non ha saltato l'endrop uno due tre infatti c'è anche un signorino che è pronto ad entrare e riprendere il dust to dust esatto facciamo anche partire in che magari c'era il terzo è un piccolo efemere il tuo guarda io tengo pure la terra eh pure efemerate poverino è stata epica grazie Erwan per questa perla bello è qualcosa di guarda guarda facciamo così c'è scritto flawless victory fra poco ha morto al combat quando non ci toccavano beh però mi hanno toccato mi hanno toccato mi ha toccato questo oppressore disputa va bene e però lui le terre le sta vedendo eh lui le vede e noi gliele togliamo lui le vede e noi gliele togliamo e poi lui le vede di nuovo e gliele togliamo metti la terra togli la terra guarda che bello guarda che bello tiè chiudiamo le questi ti attacco molto bene siamo a quota cinque due tre quattro cinque terre andate turno sette vediamo se salta il settimo nel drop oppure no va bene tira galvanica qua sopra per cortesia per cortesia settima terra settimo turno che con 18 terre non è oh oh yeah oh yeah qua parte il no 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 mannaggia mannaggia adesso muldrifter in little dinner qua mi partiva un Duffman che era bellissimo guarda vado tappe d'out vado tappe d'out fai ciò che vuoi se c'è un'altra pyroblast però rimane con una carta in mano mamma mia va bene va bene e con questa non so se ci riprendiamo Herman abbiamo cantato vittoria un po' troppo presto secondo me seagate e comunque non ha saltato ma non salta più l'endrop cioè non c'è modo di fargli saltare un l'endrop turno 9 vediamo se salta il nono l'endrop no guarda io ciclo io ciclo ciclo questo ok cosa servono è che noi siamo siamo a un top deck da vittoria perché ci basta qualcosa di rilevante che penso non si riprenda più però ha venduto cara alla pelle questo è si bisogna dargliene atto e devo dire l'ultimo che è don di roma in top 8 mamma mia in top 8 che becco un affinity gli ho tirato 7 dust to dust prima che concesse che continuava a fluttare come un disperato poi al settimo dust to dust ho detto eh vabbè non ho più pescato terra concedo ci sta onesto onesto e poi ci può mettere pure un altro 2-2 ma non ha saltato un singolo nel drop turno 10 2 3 4 5 più 5 esiliate i dust to dust non servono più a nulla va bene va bene manca un letto di energia va bene si qualunque roba uno due tre si che chi vuoi più bene mamma o papà scegli bene e vabbè vieni molto il terreno che prendiamo papà prendiamo papà ho paura a chiederti perché il pesce sia papà però vabbè abbiamo pescato anche mamma comunque eh si si vabbè no addirittura disputa lui ha studiato devo dire che ecco ecco e qua c'è mamma che ti dice eh hai voluto non prendere me e adesso la paghi la paghi non devi mai avere una preferenza vai mamma mia è proprio anche giocando al contrario undicesimo land drop a turno undici che poi voi direte eh vabbè ha pescato undici terre ho capito è vero ho capito ma che cosa sta succedendo io non sto capendo secondo me non stai guardando ma lui sta prendendo dal cimitero le terre ha fatto il controllo quindi va bene va bene allora uno due tre seagate beh che in realtà possiamo gestire tutto però sì però facciamo questa però diciamo che comincia ad essere un po' un birbantello lui eh vabbè facciamo così vogliamo togliergli una terra? no 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 mi domandavo solo se tenisci open di due rosse però vabbè ma ah vedi? va bene va bene a questo punto speriamo facciano in forse così almeno flood fountain potrebbe essere un problema vabbè io la togliamo con col dust dust prima di ammazzare angle si sta oddio angle dovremmo ucciderla adesso però è anche vero che eh non finito ci riprendiamo si lo blocchiamo tanto da me che va bene ma anche è vero che fin quando tiene soltanto un pezzo al cimitero ma noi ce ne frega relativamente poco ma va bene io io aspetterei dici no 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 ma intanto e che avendone soltanto una è che avendone soltanto una è che avendone soltanto una al cimitero c'è vabbè ha zero carte in mano e se vuole saccarsi a blood fountain per prendere la gourmand che tanto possiamo gestire va bene si si va bene dust to dust qui e su enforcer perché tanto non dobbiamo più sprecare la galvanica su enforcer quindi lui si saccherà la fontana comunque è incredibile cioè si è beccato due dust to dust e ancora in partita e non ha visto nemmeno cioè ha visto solo un dispute forse lo evoco solo no facciamolo a 5 scusa ci abbiamo ancora in mano open per si ci sta per counter stand va bene oh penso va bene va bene va bene va bene va bene ancora terra ha visto eh ma la domanda è se fa gurmang ma la vogliamo confermare io direi di no 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 solo dispute ecco ecco molto bene via una terra tanto abbiamo capito che le terre le ha mi piacciono e si vede ok archiomante terra va bene passiamo ok va bene va bene questo lo blocchiamo ci conviene eh sì questo amore questo amore oh questo è bello è una carta è una carta questa va bottom sai che forse fare i bottom per cercare qualcosa che scava si 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 avevo quasi paura a dirtela ma oh 2 3 4 ventudine sento le campane archiomante eh sì eh sì eh sì anche perché qua ci riprendiamo doppio effimerate ecco qua effimere su effimerate effimere su dust to dust dust to dust su doppia terra voilà 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 forte granchione forte è stato interessante comunque lo stesso anche se sembrava polarizzata subito la partita invece sì 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 Bobby il gatto noi abbiamo il granchio ah non c'è rosso strano vabbè però la teniamo dai lo troviamo rosso la teniamo? vabbè sì partiamo noi ci sta ci sta ci sta beh è responsabilità tua eh questa mano così che per essere da spell pierce guarda sì 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 tanto basta farmi ubicare l'avversario vedi ha perso l'oblio eh questo è il mio il mio segreto abbiamo beccato un'altra affinity aia 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 attenzione vedi non avevo dubbi io per me non l'avrei mai fatto ma con te molto bene eh facciamo wildfire su di noi eh sì penso di sì penso di sì tra l'altro poi terra no? perché o facciamo wildfire su di noi o facciamo abrade qua sopra ma tanto qui si floodano sempre qui dici ha già mal ligato c'è da dire che ha già mal ligato eh forse parei abrade perché tanto a livello di vantaggio terra a noi non cambia nulla che in un caso facciamo più uno noi in un caso facciamo meno uno a lui e proviamo a schiappare sul fatto che se non ha la se non ha un'altra terra la vinciamo senza un motivo mi piace se a me ci sta provano a schiappare non tanto no vabbè niente ci abbiamo provato vabbè però ci stava ci stava va bene eh però se buschiamo terra poi che lo possiamo anche riproporre tra un po' sì male 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 blu montano nella testa non dovete appare qualcosa e ci stavo pensando ma dica pure questa lo stop in atto che ci deve essere una moda che non conosciamo dice la sua via sì non la so non la so a me queste moriranno di parentesi adesso meno male che non abbiamo tappato le cose a caso meno male ma noi lo sapevamo in realtà per quello mica perché allora allora eeeh dobbiamo spaccarli subito eh dobbiamo spaccarli subito vai qua e qua dai vorrebbero morire va bene lui si cicla i blood token va bene va bene va bene va bene se lui non dovesse vedere la terra ma è prossimo diventa interessante sì 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 perché riusciamo a fare ecco va bene ecco va bene vabbè ci dobbiamo riprendere quel fire nice ciao eh mi salvi sì io stacco buona continuazione raga ciao ciccio ciao igor wellspring va bene va bene va bene eccolo eh eeeh allora questo in realtà lo possiamo gestire sai che possiamo fare potenzialmente archeomante a braid a braid su blood fountain e spacchiamo anche l'enforcer eh qui mi sembra una cosa migliore facciamo così che volendo possiamo spaccare una terra eh però è un rischio enorme abbiamo capito che esatto i giocatori di affiniti non hanno problemi di terre galvanica su di noi è che non è un bel segnale di noi nemmeno una galvanica su di noi porta questo galvanica su di noi mi fa paurissimo da due carte che saranno due no una galvanica e unisce mi fa molto più paura in realtà eh si synthesizer sai che quasi quasi blocco tanto nemmeno blocco ok anche perché se pesco light to dinner perlomeno ha una carta forte va bene eh eh sarebbe bello blood fountain numero 2 dovremmo spaccare pure quella e poi tanto c'è il synthesizer per far vantaggio 1,2,3,4 archiomante su proprio lo possiamo adegastare il grancho mi sa si semmai dovessimo pescarlo uno mannaccia la miseria a braid su blood fountain che se no siamo morti e passiamo 3,4,5,6,7 ma possiamo adegastarlo punto e basta non è che fra un po' si si scatta un'altra terra va bene qua devo bloccare di nuovo noi vogliamo ammazzare perchè abbiamo così anche famerate come carta riva ci sta ci sta ok ok non c'ha dispute buono mi sa che era il synthesizer c'era terra no devi pescare dispute calvanica ok sai che forse qua faccio soul e basta si si forse che non posso prendere danni a caso ora se lui rallenta un po' no eh se lui questo va bene è incredibile come non finisca veramente mai la benzina ma mai non c'è modo se lui ma se vuoi pescasse l'altro cioè pescasse quello che fa guadagnare punti di vita no ti fa anche vedere che gli pesca tutti e 4 no no ma se vuoi ripetere questa cosa del se lui vuole fermarsi un attimo no perchè volevo un attimino capirlo lui non vuole fermarsi un attimo lui non vuole fermarsi un attimo attenzione guarda in bottom top ma hai pesca solito dinner così non c'è uno bottom bottom così sporca eh no abbiamo tolto 4 terre abbiamo tolto 3 terre e abbiamo pescato la quarta vabbè e passiamo a questo punto se dovessimo pescare hash barrens non so se ne abbiamo un'altra non non ci affermiamo perchè non ne abbiamo un'altra non ne abbiamo un'altra ah eh vedi subito ha risposto alla mia domanda e beh ha visto tripla tripla disputa abbiamo pesco quell'altro così va bene ci rimuovano su quarta disputa e che ti devo dire piano mille va bene piano mille esatto guarda io blocco qua blocco qua blocco qua blocco qua effimero qui effimero eh vuoi che non abbia l'alta galvanica dai ha pescato 85 figurati può fare quello che vuole ha pescato 85 chiaro cioè non c'era molta possibilità onesta ma il problema è che eravamo più o meno vabbè dai eravamo più o meno tutte due il top deck le mie pescate sono state per day che mette sotto terra pesca per day per day che mette sotto terra pesca terra pesco terra le sue pescate sono state deadly dispute into deadly dispute mi sembra abbastanza equilibrata la cosa allora stessa sedata di prima direi sì sì che vedi questo da pronte gatto conto granchio solitamente vince il gatto eh sì 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 infatti noi adesso togliamo il granchio un cane non ce l'abbiamo nel che non è entrato e che non abbiamo visto il rinoceronte perché il rinoceronte lo batteva il gatto è un po' più grosso è un po' più grosso molto bene molto bene vabbè dai c1 sappiamo che è un po' così quindi questo direi che è un keep qui no vabbè partiamo con questa per forza passiamo passiamo turno così siamo open di counter spell se non fa nulla ci chiamo prendiamo rosso ok va bene ok queste valivani che è un po' così sono benissimo dures dures eh vabbò counter spell più pyroblast mamma mia va bene va bene eh sì tu prendi nota prendi nota banniamo tutto facciamo facciamo terra e passiamo va ok non voglio fargli vedere che ho visto subito il rosso poi che se no gli sto dicendo che cosa che cosa avevo in mano io qua però tuttoro la seconda bianca perché se pesco da sto dust è troppo più forte e mi espongo a quel top deck attenzione no siamo anche prodotti da pyroblast vedi attenzione sai che prenderei quasi wildfire qui eh sì 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 perché dobbiamo andare avanti esatto andiamo con i suoi va bene mi dirà è un pazzo non ho ancora visto il rosso ce l'abbiamo in mano il rosso ecco inizia la sagra sì 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 va bene almeno non è una disputa va bene penso che adesso un tasto da si farebbe parecchio male dici tra l'altro sa che posso slandarlo perché la swamp ce l'ha qua io la porto indietro l'energia ce l'abbiamo sì se poi pescassimo tasto tasto mamma mia no va bene solo l'avversario precedente voleva sì sì pescare quello che voleva noi no va bene almeno almeno l'abbiamo slandata almeno una terra gliel'abbiamo tolta l'ha accusata questa perché non ce l'ha ma vediamo se ne hai detto troppo presto scarta carglai shaman va bene perché carglai shaman va va io ho smesso di cercare di capire le persone va bene va bene si può sacrificarlo di dispute che ne sai tu ah ok noi un counterspace ce l'abbiamo attenzione 1 2 e 1 3 via 1 e via 2 che mi dici che dovrebbe vendita le sacrifica per ammazzarti dal chiamante no ha concesso concede se l'ha presa male l'ha presa male l'ha presa male l'ha presa come un'offesa personale secondo me io non gioco più ok eh quel wifi sulla sulla palude gli ha già fatto storcere il naso poi il top deck di attenzione il top deck di crazy wifi di secondo mi piace magari parte di rosa ecco questa è una mano che che? può fare tutto e può fare niente vediamo sì però io come sto cercando di insegnare a scuola a Eisen insegnano che closing wifi di secondo si tiene punto e basta ah certo proprio è da lì che costruisci è doppio closing wifi di secondo e di terzo si tiene ancora meglio adesso tocca sperare che faccia quella palude eh vabbè io qua eh qua? che si fa scuola di Eisen? no no qua rampiamo noi sì l'unica cosa è su che cosa prendere però probabilmente prendo blu sì sì va bene oddio anche il bianco forse potrebbe avere senso però alla fine non eh lo so solo che in realtà poi ce l'abbiamo cioè noi il prossimo turno comunque facciamo terra attenzione ah pensavo avessi saltato attenzione che anche così wifi che mi prende altro bianco cioè no scusa altro blu sì e appoggiamola ma oddio voglio il secondo rosso no però no appoggiamo questo il bianco sì sì va bene poi va bene lui è tre landi io ne ho ne ho cinque vabbè c'era tipo sette Red Elemental Blast in mano come sta giocando possibile possibile c'è sempre da dire che Dastu Dust non ci sta sotto allora ce l'accogliamo un Mondrifter ci prendiamo una Pyro Blast sai che forse sì ma mi dispiacerebbe un po' eh però tanto poi almeno non se la becca l'archeomante tanto qua dobbiamo fare poi terra rappata l'archeomante l'archeomante in questo momento è proprio inutile però se dovrebbe prima trovare una Braid un Dastu Dust forse questa forse questa va bene beh però tanto è meglio fargliele usare in spot in cui comunque lui non sta facendo grandi cose piuttosto che in spot in cui invece devo già gestire e non posso tirarci e beccarsi una Pyro Blast in quel momento sarebbe peggio sì assolutamente per lo meno gli facciamo usare le sue risorse che tendenzialmente per lui sono limitate per noi no Lord Fountain va bene non riusciamo a mettere due cose al cimitero in modo tale da costringerlo a saccare relic no eh? non vedo come non vedo come siamo galvanica e no perché le femmerite non va al cimitero troppo no vabbè che ma non c'ha nulla al cimitero quindi vabbè noi direi che passiamo e basta in questo spot va bene oddio va bene un po' relativa come cosa però e noi stiamo pescando nulla cioè mano forte sì doppio eclissing wifi però poi parte quello cioè tecnicamente stiamo bene il problema è che lui può esplodere da un momento all'altro e non abbiamo grossi difese ecco terra? pneumatic star a sto punto gli faccio saltare il discepolo adesso sì cioè che non è bellissimo però un po' alla volta pure scocci però qualcosa deve pur succedere ok va bene qua se riuscissimo a pescare anche soltanto un preordain qualcosa no ecco i discepoli della volta sono come gli ospiti dopo un po' devono scoppiare bella questa tra l'altro possiamo fargli quindi dust to dust che gli toglie le tue terre sì lui può esiliare può fare quello che vuole noi facciamo ehm ter oddio ce la puoi esiliare te ovo è vero mh 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 ma pensavo se utilizzassimo dust to dust su vabbè ormai abbiamo fatto così eh sulla relic è che secondo me riusciamo a forzarlo riusciamo a forzarlo questo turno senza neanche dover sprecare tra virgolette la il nostro dust to dust qua sopra anche perché lui deve decidere a questo punto che con faccio faccio questo teatro prima ehm lui deve decidere se farci riprendere galvanica preordain oppure esiliarsi pure fare pyroblast attenzione oppure fare pyroblast però ho una carta vera in mano mh va bene galvanica o birdain no galvanica f7 mh quando l'uomo in mano che ci avrà no mi saccherà la blood fountain non saccherà la blood fountain non saccherà la blood fountain deadly dispute però non può tirare sarà attesa quindi ovvio ovvio eh vabbò non so che dirti Erban non so che dirti vabbè almeno va bene si togliamo blood fountain ed Erick anche se così perde pure il token eh per forza per forza per forza per forza solo che c'ha tre carte in mano e noi non ci abbiamo più nulla non so ne ha quattro carte in mano tra poco si eh però tanto che ci devi fare vabbè e conta il numero di terra che abbiamo visto va bene poi il modo in cui pesca ma cosa perché ha messo gorilla guarda meno ha più senso del car crash a man attenzione facciamoci usare quest'altra l'ennesima blast eh mo dipende si tutto un po' da quello però c'è veramente se c'è la terza se c'è la terza incredibile Reconer la sta la sta cercando entro dai ok mo devi perdere tutto qui e qui va bene perla vai lo so che lo vuoi lo so che lo vuoi no non l'ha fatto ok quante galvani che hai visto nemmeno una? nemmeno una odio non penso ce l'abbia però se non l'ha pescata adesso eh boh tanto tanto siamo messi così a sto punto non ha senso non fare nulla non ha proprio senso lui scava per una troverà per forza cast down addirittura va bene late to dinner eh quello ci vorrebbe pure per Dain per Dain hai già una carta late to dinner è un'altra carta uno due tre quattro late to dinner su archiomante e ci riprendiamo Ephemerate ce la rischiamo o ci prendiamo dust to dust allora lui non non dovrebbe avere perché ha tirato cast down che magari gli conveniva tenersi se avessi avuto galvanica fosse ci proviamo accogliamoci il rischio sì secondo me si può rischiare può dare sicuro che ce l'abbia eh però eh che cacchio eh ma boh che devi fa che devi fa perché l'altra era prendere dust to dust togliergli doppia terra però poi siamo di nuovo al top deck e perlomeno è una giocata high risk high reward come si dice no? sì 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 ci sta ok siamo puntando a vincere non a non perdere quindi esatto tra l'altro di nuovo per clanshaw va bene per Dain magari ci premia il mazzo che ne fa archiomante a sto punto ci riproviamo? lì no aspetta perché lui c'ha eh c'è cacca un shaman giusto late to dinner di nuovo sì in tuo argomante per per di nuovo late to dinner ah sì per sì giusto almeno facciamo più vite qua facciamo vite all'infinito fin quando e qua che prendiamo di nuovo late to dinner o o dust to dust eh io qua dicevo stavo dicendo dust to dust ma forse è meglio late to dinner ma più d'altro che tanto posso bloccare il samurai mmm 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 mi può saccare il food token così vabbè fa nulla tanto abbiamo stallato per il momento speriamo cioè a un certo punto può anche finirla un attimino la benzina un turno non chiedo tanto un turno di fermo lui non attacca perché noi giustamente abbiamo late to dinner e ci sta se no facciamo semplicemente ci regala tre vite e basta eh bello questo eh beh ragazzi ma è spacca tutto effemerate lui si saccherà due pezzi e si ammazza tutto me la teno incipa un'altra galvanica calma va bene uno due tre qua late to dinner boom sul late to dinner e stavolta ci guadagniamo tre vite guadagniamo tre vite stessa situazione di prima ma con tre vite in più una galvanica e meno per lui che va bene che va bene diciamo che a parità di top deck ecco e noi dovremmo 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 avere in teoria dei top deck più forti dovremmo questi quanti danni sono uno due tre mamma mia questo è il problema mamma mia forse dovevo prendere per Dain ma non lo so tre quattro cinque sei ok il discorso è che a parità di top deck non rilevanti noi miglioriamo sempre di più però se lui al primo è andato subito a segno non ci possiamo fare granché sì anche perché abbiamo già visto una buona quantità di terra e abbiamo già messo in fondo una buona quantità di terra quindi cioè noi moon drifter ci svolta la partita tra l'altro possiamo evocarlo late dinerarlo è un account spell ci darebbe un po' di fiato sì e passiamo possiamo farci nulla ecco ma l'inerzia della sua parte eh però vabbè lui ha pescato veramente forte veramente forte ok quel file era nice che ho giocato una volta non escono più sembravano delle carte sembravano essere delle carte seagate è una carta che rieschiamo quello lui non genera mai quantico adesso oh fare nice è vero che c'ha la fontana però c'ha la fontana in qualche modo dovranno morire prima o poi c'ha la fontana 4x6 perché sennò prendiamo vai lui magari fa spacca tutto noi rianimiamo let to dinner e facciamo un po' il dust to dust sì che secondo me ne lo spaccherà tipo mai eh vabbè ma tipo veramente mai se no cerchiamo di scavare ancora se no cerchiamo di scavare ancora con con Clisi io forse prenderei Clisi eh fai tu io tra le due cose qui hai fatto mi accolgo secondo me tutto che sei corretto me lo prendo io a rischio qua più che altro almeno mi tolgo un'altra terra dal mazzo galvanica facciamo galvanica su discepolo intanto c'ha soltanto un solo discepolo al cimitero passiamo beh ci siamo tolti abbiamo tolto discepolo si sacca blood fountain per riprendere solo quello va bene cioè va bene c'è l'artefatto e meno in campo sostanzialmente no va bene non avevo questa speranza per questo quindi ci siamo tolti un'altra terra dal mazzo e più che mamma mia vabbè due quattro sei otto dieci dodici non siamo ancora morti però si sente pulso di cadavere sì sì ma una cattura degli animali è tipo un drifter ma è vero che sarebbe una cosa interessante da far succedere che devo fa? che devo fa? niente passo in realtà siamo morti il pro... no non è vero perché deve fare tutto vabbè vabbè devi vedere le carte a picchie per non pescare un artefatto o qualcosa che fa danno con questo ancora non siamo morti mi manca ancora un artefatto attenzione il carclan shaman cosa stiamo facendo? aeroblast ovvio non ci credo non ci credo non ci credo eh vabbè che ti devo dire che ti devo dire sono artefatti e carte che ci fanno male siamo morti tre quattro cinque sì sì siamo morti contato prima eh vabbè ma che cas... cioè cos'è appena successo ma non ha senso noi non abbiamo fatto una pescata decente che sia una eh no non è detto che lui vada all in adesso eh perché è rischioso è rischioso come? se noi abbiamo una qualsiasi cosa per... per? per guadagnare vita che ne so lui si ammazza tutto il borde tutto il... ma figurati se non va all in figurati è un giocatore di affinity cosa pensi che pensa? cioè piano piano lui comunque l'avrebbe vinta non lo so se avrebbe giocato così fosse lui eh va bene va bene ma sai che abbiamo detto al top deck siamo più forti noi sì al top deck siamo più forti noi a parità di top deck siamo più forti no? però se lui pesca meglio sì 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 va bene va bene va bene va bene facciamoci male perdain sotto sotto morti vabbè ok eh avremmo preso hydroblast per uccidere il pezzo ma guarda le pescacce non vincevamo ma neanche contro topolino potevamo vincerla questa partita neanche contro topolino vabbè vabbè che dire intanto siamo 1 a 1 il granchetto ancora non si è fatto vedere splendere però cercheremo di farlo nel prossimo video quindi vi raccomando state lì pronti a vedere tutto